tutti noi respiriamo facciamo in continuazione e spesso non vi prestiamo la benché minima attenzione il respiro entra il respiro esce lo diamo assolutamente per scontato una funzione automatica nel nostro corpo eppure il respiro è l'essenza stessa della vita quando il respiro finisce finisce anche la vita e il respiro i greci lo chiamavano pneuma è anche il respiro vitale il soffio vitale l'anima lo spirito è sia il respiro fisico sia il respiro interiore pneuma non per nulla la pratica della meditazione si basa sull'osservazione del respiro esistono gli esercizi di respirazione, lo yoga, lo pranayama che aiutano a sbloccare l'energia interiore e così via quindi il respiro è la chiave di volta fra il corpo e lo spirito in tradizione tibetana si parla di corpo parola e mente lo che noi introduciamo con parola sarebbe lung che è il corrispettivo di pneuma cioè energia vitale se non c'è la parola che unisce corpo e mente non c'è unità vivente quindi potremmo dire che il respiro è un po come la corda del pozzo quello che ci permette di entrare nelle nostre profondità e il respiro però va conosciuto, posseduto, utilizzato e non per nulla una delle più grandi forme meditative è il canto il canto dei mantra, la tradizione orientale dei sutra il canto gregoriano, il canto dei salmi la tradizione cristiana, il canto bizantino anche sono tutte forme di canto sacro in cui quindi il giusto atteggiare del corpo e il giusto uso del respiro ci porta a uno stato di coscienza più elevato spesso noi non prestiamo attenzione, come dicevo, al nostro respirare e spessissimo non siamo neanche in grado di cantare nel modo giusto perché il respiro non fluisce in profondità è un canto solo di gola perché il respiro sia funzionale deve essere profondo, dominale e attraverso questo respiro profondo, dominale noi riusciamo anche a fare vibrare tutto il nostro corpo quando, per esempio, intoniamo un canto gregoriano un alleluia, un exultet, un tedeu oppure quando semplicemente anche recitiamo un mantra semplice anche come l'OM deve partire dalle profondità e far vibrare tutte le energie del corpo solo in quel modo il mantra, il canto diventa veramente liberare l'energia del respiro attraverso il canto, per esempio è qualcosa di altamente terapeutico aiuta enormemente a sbloccare le nostre energie sbloccare quelli orientali che chiamano i chakra i centri di energia interiore aiuta enormemente ad aprirci verso la trascendenza ed entrare nell'immanenza contemporanea quindi impariamo a cantare a liberare il respiro attraverso il canto che forse è la forma più semplice poi possiamo anche usare i pranayama o altre cose ma imparare anche semplicemente a intonare un alleluia o un altro canto o un mantra che ci risuona o ci pare particolarmente affine che ci piace particolarmente anche solo per il suono per la sonorità e lasciarci andare lasciare che il respiro ci attraversi ed esca nel canto è qualcosa che può veramente aiutarci ad aprire il nostro cuore e a unificare tutto il nostro corpo parola e mente cantate domino alleluia cantate domino benedicite nomine eius bene nunziate alleluia alleluia Alleluia, cantate Domino, alleluia. Cantate Domino, benedicite nobile, bene, non sia. Cantate, de die in diem, salutare. Alleluia, alleluia. Cantate Domino, benedicite nobile, bene, non sia. 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 Cantate Domino, benedicite nobile, bene, non sia.